Un accordo di programma finalizzato allo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni attribuite alle province di Chieti e Pescara e quello firmato ieri nella sala del Consiglio Provinciale di Pescara durante la riunione congiunta dei Consigli Provinciali di Pescara e Chieti. Alla firma erano presenti i presidenti delle province Antonio Di Marco e Mario Pupillo assieme ad una nutrita rappresentanza di consiglieri e dirigenti dei due enti. Ma come si procederà da questo momento in poi? Lo ascoltiamo dalle parole dei due presidenti. Soprattutto metteremo insieme i nostri servizi e tra questi i primi che vorremmo istituire sono quelli dei servizi informatici attraverso anche un protocollo d'intesa che abbiamo firmato insieme all'ARIT che è la società regionale che gestisce i sistemi informatici. Quindi uniformare già il linguaggio nostro informatico è fondamentale e quindi questo potrebbe anche riverberare sui comuni sia dalla provincia di Chieti e di Pescara quando andremo a regime. E il resto poi andremo a valutare. Ovviamente ci sono delle carenze nell'una e nell'altra provincia quindi di personale, di dirigenti e tutto questo serve per armonizzare e disegnare quell'area vasta che la legge del Rio ci suggerisce. Con Chieti e con Mario Pupillo in particolare abbiamo una condivisione di intenti molto accelerati, tant'è vero che le nostre intenzioni sono anche quelle di poter arrivare, anche se non subito, attendendo qualche mese per esempio ad avere un unico settore di isa scolastica che possa gestire le due realtà territoriali, avere un unico settore che sia quello dell'ambiente. Come sapete il fiume Pescara abbraccia sia Chieti che Pescara ed è abbastanza sintomatico di un sistema che va superato. L'esempio di questa unione di servizi messo in campo da Chieti e Pescara è stato portato anche a livello nazionale all'attenzione del lupi, l'unione delle province italiane e del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Le province italiane sono pronte a definire esattamente cosa si intende per aree vaste e quindi noi vogliamo che siano i consigli provinciali a decidere le aree di competenza delle aree vaste e non invece l'imposizione che può arrivare dal governo o addirittura dalla regione.